per preparare il polpettone preriscalda il forno a centottanta gradi celsius poi metti mezzo chilo di carne magra macinata in una ciotola grande insieme a novanta grammi di pangrattato 75 grammi di cipolla gialla tagliata da dini e 120 millilitri di latte aggiungi un uovo due cucchiai di ketchup e un cucchiaio di salsa worcestershire ora incorpora un cucchiaino di prezzemolo essiccato 5 grammi di sale mezzo cucchiaino di aglio in polvere e un pizzico di pepe nero mescola tutti gli ingredienti con le mani fino ad amalgamarli completamente metti il composto in uno stampo per polpettone e premilo creando uno strato uniforme per preparare la glassa mescola 60 millilitri di ketchup due cucchiai di zucchero muscovado chiaro e un cucchiaio di aceto di vino rosso in una ciotola versa la glassa sul polpettone infine cuoci il polpettone per 55 minuti e lascialo riposare per 10 minuti prima di servirlo